E' ufficiale, è stata proprio in queste ore oscurata e bloccata la pagina ufficiale di Vox Italia, il nuovo partito sovranista, populista e socialista che mira a occupare lo spazio mancante nello scacchiere politico contemporaneo, quello che si oppone tanto al cosmopolitismo liberista fucsia quanto al sovranismo liberista bluet. Vox Italia, come in altre occasioni, ha avuto modo di precisare un partito sovranista, socialista, democratico, populista e internazionalista, che mira a utilizzare la sovranità nazionale come base per la sovranità popolare e quindi per la democrazia, che intende il sovranismo in chiave internazionalista e quindi in vista di una costellazione di stati sovrani nazionali, socialisti e democratici, fratelli e confederati. Ebbene, accade che in queste ore, come poc'anzi rammemoravo, viene oscurata la nostra pagina sulle reti sociali, viene bloccata senza alcuna motivazione. Forse perché noi, a differenza di altri movimenti come Vox Italia, del quale mi pregio di essere l'ideologo, non diciamo più Europa, non diciamo decidono i mercati, non diciamo ci vuole più austerity, non diciamo occorre comprimere la spesa pubblica. Vox Italia è stata bloccata forse perché è apertamente sovranista, populista e socialista e quindi incompatibile con quel partito unico del capitale che si finge plurale quando in realtà moltiplica in forme plurali il messaggio unico liberista. Vuoi nella sua declinazione fucsia, cosmopolita, vuoi nella sua declinazione bluet, liberista e sovranista insieme. Vox Italia è stata bloccata forse perché crede in una confederazione internazionalista di stati sovrani, democratici e socialisti e dunque si oppone tanto alla via del cosmopolitismo, di cui l'Unione Europea è incarnazione, quanto alla via del nazionalismo regressivo di tipo liberista. Cerca il famoso terzium datur, in questo caso, di un sovranismo internazionalista, delle nazioni sorelle, socialiste democratiche. È per questo dunque che Vox Italia è stata bloccata, forse perché non si arrende e lotta per un'Italia all'altezza della sua storia, per un'Italia in cui tornino a essere protagonisti il rinascimento e i diritti sociali, la cultura che ha fatto grande l'Italia e che ha determinato la grandezza della nostra storia. Un'Italia centrata di nuovo sulla lotta per i diritti sociali e sulla decisione del popolo sovrano, ciò che peraltro è pienamente in linea con quella carta costituzionale che noi rivendichiamo appieno, la quale fin dall'articolo primo mette a tema un sovranismo socialista e populista, dove la sovranità popolare è nel popolo e appartiene al popolo, o più precisamente l'Italia, dice il testo costituzionale, è una democrazia nella misura in cui la sovranità è nel popolo, il popolo è sovrano nello Stato e lo Stato deve essere sovrano perché si dia la sovranità del popolo nello Stato. Sicché Vox Italia si richiama apertamente alla democrazia e alla Costituzione. Mira a un'Italia che finalmente valorizzi chi lavora e non chi specula vivendo in modo parassitario, un'Italia delle classi lavoratrici e dei ceti medi produttivi contro gli speculatori cinici e apolidi che delocalizzano e fuggono per portare i conti dove convenga, per spostare la produzione dove convenga, per tutelare un interesse che è l'interesse globalista contro l'interesse nazionale. Siamo in cerca di un'Italia fiera di sé e rispettosa delle altre nazioni, un'Italia che sia orgogliosa della propria identità e della propria storia e che insieme si apra al dialogo e al rispetto rivolto alle altre nazioni. Un'Italia cioè che non sia miserrima colonia di Bruxelles e di Washington quale attualmente è, un'Italia ancora che sia finalmente basata sulla democrazia, cioè come poc'anzi ricordavo sulla sovranità popolare nello Stato sovrano nazionale, sovranità popolare nello Stato sovrano nazionale che presuppone a propria volta la sovranità dello Stato nazionale. Siamo in cerca di un'Italia degna di sé e degli spiriti magni che l'hanno fatta grande, l'Italia di Dante e di Petrarca, di Machiavelli e di Manzoni, di Vico e di Gioberti, di Gramsci, di Croce e di Gentile. Si può lottare e si perdere, certo. Chi non lotta ha già perso in partenza ed è per questo che Vox Italia continuerà a lottare anzitutto sul piano culturale, per variare l'immaginario, per mutare il coefficiente di inevitabilità, per tornare a proporre un'ontologia del possibile che reagisca alla mistica della necessità di chi predica intrasformabile il mondo totalmente amministrato dall'ordine liberista con il solo obiettivo di renderlo effettivamente tale. Diciamolo apertamente dunque, dopo il manganello arcobaleno delle Brigate Fucsia arriva ora il nuovo manganello algoritmico delle reti sociali. Avrete capito tutti che nell'odierna epoca orwelliana, l'epoca della notte del mondo, l'antifascismo diventa semplicemente il passepartout per poter usare metodi squadristi. In altri termini, chi oggi in assenza di fascismo predica l'antifascismo lo fa essenzialmente per poter utilizzare metodi che furono propri del fascismo. Lo squadrismo, la negazione del diritto di parola, la rimozione della libertà basica di espressione. E questo è il punto fondamentale al quale Vox Italia si oppone. Vox Italia, che come più volte abbiamo ricordato nulla a che vedere con l'omonimo Vox spagnolo, che è un partito sovranista e liberista, laddove noi aspiriamo a essere sovranisti e socialisti. Bene, Vox Italia, come suggerisce l'espressione Italia, che in latino allude insieme a un genitivo e a un dativo, Vox Italia è la voce dell'Italia, la voce d'Italia, la voce del popolo italiano, e insieme la voce all'Italia. È la voce che occorre tornare a dare all'Italia dopo che l'Unione Europea, dopo che la sudditanza atlantista, ha negato per troppo tempo la voce alla nostra amata patria. Occorre quindi restituire voce al popolo italiano e all'Italia. Occorre porre al centro di nuovo la nazione, intesa come l'unità democratica delle classi che producono e che lavorano, contro i parassiti della finanza e della burocrazia, intesa come variante parassitaria della stessa finanza. L'importanza dunque è porre al centro anzitutto la grandezza dell'identità italiana, dell'identità storica del nostro Paese, contro la volgare globalizzazione degli spiriti post-identitaria oggi in atto. Di qui l'importanza ancora della centralità del lavoro, dei diritti sociali e della democrazia. Di una democrazia che non è la democrazia liberale, come ancora recentemente qualche pretoriano del pensiero unico cromaticamente corretto, Fuxi Arcobalenio e Arcobalenico poteva dire del tutto serenamente. Noi non siamo per la democrazia liberale, che è la democrazia dei mercati che decidono, la democrazia che occulta la dittatura glamour dei mercati e della finanza. Noi siamo per la democrazia socialista di un popolo che può essere libero e democratico solo overegni l'eguale libertà fra gli esseri umani che appartengono alla nazione e che sono parti di quella che con lo Hegel chiamiamo la famiglia universale della nazione. Contro le logiche sradicanti della globalizzazione, contro il periglioso individualismo acefalo del liberismo ovunque imperante. Grazie a tutti.